musica disconnessa non ho un padrone per cancellare ancora l'idea che ho dell'amicizia io mi chiamo Metà Liora e questa sera abbiamo the same con Federico ci siamo incontrati qualche tempo fa e abbiamo fatto qualche prova quindi abbiamo asomato insieme e stasera ci siamo esibiti questo bel festival il brano praticamente trasformazione, abbastanza agudo come testo infatti non pensavo che potesse piacere perché comunque la storte parla dell'ambiente abbastanza negativo come cosa abbastanza profondo però allo stesso tempo magari non è nei gusti commerciali ecco quindi è un brano diciamo di nicchia però insomma sono stato contento che è stato scelto e com'è andata sul palco? beh può andare sempre meglio perché insomma però diciamo che però noi abbiamo sentito bene Grazie a tutti